In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, del turismo e delle vacanze. Puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernale. Quindi mi raccomando, sciate sempre con noi. Un saluto, buone feste a Sportador.tv, ciao! Sotto una fitta nevicata siamo nella schiarea di Folgarda e Marileva in Val di Sole. Le punti di partenza di questa schiarea di 150 km di piste che dalla Val di Sole va fino a Madonna di Campiglio e arriva volendo a Pinzoni in Alta Varrendena. Tutti usufruibili con unico skip pass. Grandi novità, innanzitutto la bella nevicata. La stagione è partita molto bene già dai primi di dicembre e va avanti fino a Pasqua inoltrata. Pasqua a fine marzo, quindi si pronunciano qualche mese, quattro mesi di attività intensa. Già record di presenze nelle prime giornate di dicembre. Una stazione scistica che si rinnova, che cambia continuamente perché c'è sempre bisogno di novità, c'è sempre bisogno di nuove offerte per la famiglia, per i bambini, per la parte enogastronomica. E qui i Solandri e il direttore della schiarea Cristian Gasperi con il presidente Collini della schiarea hanno grandi novità da presentare per il futuro del turismo di questo territorio. Ai nostri microfoni Cristian Gasperi, direttore responsabile della schiarea Folgarre Marilleva. Grazie Floriano, sì tantissime novità. Ovviamente in primo luogo per noi vengono i bambini, le famiglie. Siamo la destinazione family friendly, premiata anche quest'anno da Skip Pass Panorama Turismo, il primo posto. Abbiamo ben tre family park in quota, abbiamo aumentato anche le attrazioni nel family park. I nostri animatori sono sempre presenti perché noi quando diciamo che stanno bene i bambini, stanno bene anche mamma e papà. Come dicevi stiamo già pensando al futuro, l'anno prossimo sarà una stagione per noi di investimenti perché avremo un'estate molto piena, avremo una nuova struttura a maghetta out, struttura con un nuovo ristorante, service, pizzeria, un deposito in quota con un'ampia area di armadietti per lasciare l'attrezzatura in cima, ski service, scuola di sci, quindi nascerà un vero complesso all'arrivo di due telecabine, quella di Folgarida e quella del Belvedere. Ma non solo, perché poi avremo la grandissima novità dell'anno prossimo, sarà una nuova seggiovia a Malileva, la seggiovia Ometto, che arriverà in cima al Crinale. Quindi si aprirà una nuova vista panoramica, nuova, nuova, verso il Brenta e questo regalerà veramente a tutti tanta emozione. Siamo con Piero De Godens, che è il presidente del comitato Nordisk, il comitato che gestisce tutte le attività di sci di fondo della bellissima Val di Fiemme. La Val di Fiemme ha ospitato tre edizioni dei campionati mondiali scinoriche, 91-2013, ospiterà i giochi olimpici di Milano a Cortina, il 90% dei lavori in Val di Fiemme sono pronti, quando in altre parti dei giochi olimpici i lavori devono ancora partire. Tutto questo merito della volontà della Val di Fiemme. Piero, sei fiero di questo, che sia il presidente del comitato organizzatore e soprattutto diciottesima edizione del Tour de Ski, il primo weekend di gennaio nella bellissima Val di Fiemme. Sicuramente io sono fiero, però dobbiamo dire che è un gran lavoro, l'hanno fatto le amministrazioni comunali, in particolare di Predazzo e Tesero, perché hanno anticipato, tra l'altro con delle risorse loro, tutta la progettazione. Adesso sta seguendo tutta la provincia, quindi grazie anche alla provincia che sta portando avanti tutti gli appalti e noi ci sentiamo sicuramente tranquilli dal punto di vista delle opere che servono per le Olimpiadi. Tra l'altro completando, come abbiamo sentito anche dal presidente della federazione, anche per un futuro e creando questo centro federale unico, il più importante per le discipline dello Sinordico a livello italiano e non solo. Noi siamo pronti anche dal punto di vista organizzativo. La neve siamo, tra l'altro, sicuramente fortunati perché sta facendo un dicembre e un novembre molto, molto molto freddi. Noi pensiamo di avere le piste pronte già per il ponte di Sant'Ambrogio, ma per essere sicuramente prontissimi per la gara di Coppa del Mondo. 6 e 7 gennaio, il 6 abbiamo 15 chilometri in tecnica classica sia maschile che femminile. Da quest'anno le distanze sono omogenee, uguali. E la domenica una must start in tecnica libera che assegnerà di fatto il vincitore del Tour de Ski. E di questo siamo non orgogliosi, più che orgogliosi perché siamo l'unica località che è sempre rimasta con la gara e con la finale. E per noi vogliamo che veramente resti non solo per quest'anno, ma che prosegua anche dopo le Olimpiadi il Tour de Ski, anche secondo noi, non solo per altri ed anche per la FIS, ha un senso con questa finale e con questo arrivo. È sicuramente una grande soddisfazione perché abbiamo visto e stiamo vedendo veramente i grandi campioni che si contendono questa prestigiosa Coppa, ma questo prestigioso trofeo, mettendoci tutta la loro bravura e la loro anima. E vediamo soprattutto l'atleta completo, dalla Kowalczyk al Bauer a Colonia. Sono atleti che si sanno difendere nelle sprint, ma si sanno difendere e anche sanno vincere sia in tecnica classica che in tecnica libera. Un saluto a tutti gli amici di Sport Outdoor TV, seguiteci! Siamo al Passo del Tonale, questa splendida località sciistica che è il paradiso, è una vera patria dello sci italiano ed europeo. Il Passo del Tonale è al centro della famosa schiarea Ponti di Legno Tonale, una schiarea che parte dall'Alta Val Camoni che arriva sino all'Alta Val di Sole. come il Passo del Tonale, il Ghiacciao Presena, Fulcuri, questa schiarea fatta di 150 km di piste. Qui ci sono ben 5 scuole di sci, 300 maestri di sci che insegnano a sciare ormai tutto l'anno. Almeno una volta si sciava anche d'estate sul Ghiacciao Presena. Adesso il Passo del Tonale ha una delle stagioni più lunghe del panorama sciistico. La stagione è iniziata quest'anno il 18 di novembre e va avanti sino al primo di maggio. In questo servizio parliamo della situazione alberghiera di questo territorio. Siamo con Michele Veclani che è il presidente degli albergatori qui del Passo del Tonale. 28 strutture nella parte trentina, 27 nella parte lombare di Ponti di Legno, 25.000 posti letto ma c'è ancora bisogno di nuove strutture perché in effetti c'è tanti sciatori, record stagionale quest'anno al Ponte di Sant'Ambrogio, a Natale, la stagione avanti sino al primo di maggio, c'è bisogno di più strutture, di più, maggiore ricezione alberghiera. Michele? Sì, noi come alberghi siamo molto contenti di questo inizio stagione, siamo partiti alla grande, la richiesta è molto alta, siamo adesso col Ponte di Immacolata veramente full full full, già un buon riempimento per tutta la stagione, soprattutto Capodanno, Epifania, siamo veramente agli sgoccioli e si presenta bene già la stagione, verso la primavera, già ben prenotata. Chiuderemo dopo Pasqua, anzi, come stagione invernale e il ghiacciaio continuerà invece ad essere funzionante fino alla fine della stagione invernale che è il Ponte del primo maggio. Noi siamo molto contenti perché i posti letto stanno veramente facendo il sold out, cerchiamo sempre di fare nuovi investimenti alberghieri, di ampliare i nostri alberghi, nuovi servizi, mantenendo sempre un rapporto qualità-prezzo ottimale, infatti il nostro aumento sui prezzi sia degli alberghi che degli ski pass dai giornalieri fino ai plurgiornalieri è vero che c'è stato, però è stato un aumento ponderato e io credo che questo ci abbia aiutato a fare questo grande inizio di stagione. E soprattutto qui ci sono tante seconde case, 25 mila posti letto fra strutture alberghiere e tante seconde case, forse ci vogliono maggiori investitori, maggiori società che investono nelle strutture alberghiere come sono tante località alpine. Qui ci sono più seconde case e mancano alberghi, visto che c'è il boom delle settimane bianche si potrebbe fare un po' di più e voi investitori trovare maggiori risorse all'interno delle vostre associazioni oppure qualcuno che costruisca e dia più spazio agli alberghi. Sì, diciamo che la richiesta alberghiera è veramente forte, purtroppo fino a quando ero bambino sotto sulla località Lombarda, che è Ponte di Legno e il paese di Mitrofi, c'è stato un grande sviluppo delle seconde case, che è una ricchezza per le località, però chiaramente chi vuole venire a fare la settimana bianca o i weekend non trova alloggio perché noi come strutture alberghiere generalmente siamo anche abbastanza fortunatamente sempre pieni. Stiamo investendo. Stiamo investendo come, però non possiamo dire, non come livello degli impianti scistici, anche quest'anno nuova seggiovia al tonale, il collegamento, che una volta era un sogno, una realtà, Ponti di Legno Tonale e le nuove cabinovie sino al ghiacciaio Presena, alla Paradiso, insomma a livello impiantistico, tonale è l'avanguardia e non per questo è una delle milioni località turistiche. A livello alberghiero siete bravissimi, siete forti, 55 alberghi nel territorio, ma vista la vostra bravura ci sarebbe ancora bisogno di alberghi di alto livello. Sì, stiamo investendo un po' tutti nel ristrutturare gli alberghi, nell'ampliarli, nuovi servizi e poi chissà mai che ci siano nuovi investimenti da parte di altri investitori che possono venire dall'esterno. Anche perché poi c'è il boom della montagna estiva. Una volta la stagione scistica terminava ad aprile, maggio e riapriva a dicembre, adesso c'è il boom dell'outdoor, del trekking, della mountain bike, delle camminate. Qui ci sono centinaia di chilometri di sentieri disegnati, strutturati, fatti dai nostri nonni durante la prima guerra mondiale che avete giustamente rivitalizzato e rimesso a disposizione di turisti. Ora si assiste proprio a un vero e proprio boom dell'outdoor, della montagna, anche d'estate. Sì, la nostra estate sta veramente crescendo, anche perché oltre ai sentieri, come dicevi tu, e alla riscoperta delle tracce della guerra mondiale c'è poi tutto il settore mountain bike, downhill e bicicletta da strada. Quindi un'offerta veramente completa, tante cose da fare per le famiglie, un ambiente naturale incredibile, quindi un'estate che sta prendendo piede. E ci siamo dimenticati, anzi mi sono dimenticato, le terme, d'accordo tutto l'outdoor lo fa e adesso ho fatto anche le terme che nel giro di qualche stagione dovevano essere operative nel centro di Ponte di Lembio. Sì, le terme dovrebbero essere il fiore all'occhiello della nostra località, è un grande investimento e oltre le terme però ti ricordo che c'è anche l'investimento sui nuovi impianti per lo scavalco del... Dei contrabandieri. Verso il contrabandieri, dalla parte Lombarda alla parte Trentina, nella montagna qua dietro. Quindi è un grosso investimento, un ampliamento del nostro demagno sciabile ma soprattutto delle piste di qualità. Piste di qualità e anche golf, avete anche un campo da golf, se lo dimentichiamo ogni tanto, ma il golf ha pochi giocatori ma ha tanti estimatori e qualcuno viene in montagna e gioca anche a golf. Sì, tra l'altro è un posto bellissimo, Valbione, dove c'è appunto il golf club Ponte di Regno. Chiaramente essendo un golf di montagna è aperto tre mesi all'anno, nella stagione diciamo dalla tarda primavera fino a settembre. Anche lì è una nuova... Una chicca per Ponte di Regno. È una nuova offerta e quindi ci sta, insomma. E quindi buona stagione. E buona stagione a tutti. Siamo a Madonna di Campiglio con l'amico Bruno Felicetti, direttore della schiaria Campiglio Dolomiti di Brent e delle funevie di Madonna di Campiglio. La stagione a Madonna di Campiglio è già partita il 18 di novembre e va avanti fino al 14 di aprile. Tante le novità ma soprattutto due sono quelle che ci piace sottolineare. L'apertura dal 28 di dicembre alle 7 e mezza del mattino degli impianti è una grande novità per gli amanti dello sci e poi le settimane bianche per i ragazzi. Kids forno delle settimane gratuite per i bambini, giusto Bruno? Sì esattamente, dal 28 dicembre al 5 gennaio con l'esclusione solo del primo dell'anno apriremo un'ora prima, quindi alle 7 e mezza per dare spazio a tutti quelli appassionati, i chic club, a grandi appassionati che non vedo l'ora di provare le piste appena battute, perfettamente gestite durante la notte. E quindi siamo convinti che dandogli un'ora in più si divertiranno come dei pazzi. Poi quando arriveranno magari i grossi flussi verso le 11 e mezzogiorno potranno anche rientrare a casa e fare anche altre attività oppure passare il pomeriggio presso il rifugio. Kizonski invece è un progetto internazionale, sono 6 le località dell'Arco Alpino, 2 in Svizzera, 2 in Austria e 2 in Italia, fra cui ovviamente Madonna in Campiglio. L'obiettivo è creare nuovi sciatori. I bambini dai 3 ai 5 anni avranno hotel, ski pass, scuole sci, noleggio sci, tutto gratis. Sono 5 le settimane all'anno, si possono trovare sul nostro sito www.ski.it, è tutto gratis, completamente gratis. Vogliamo creare nuovi appassionati, poi un altro anno l'obiettivo è offrire a 10.000 bambini questa possibilità allargando il numero delle località su tutto l'Arco Alpino. Tutto compreso hotel, ski pass, scuole sci e noleggio sci, quindi il bambino completamente gratis. Non c'è il vincolo per gli adulti che accompagnano i bambini di sciare o di fare il corso sci, quindi possono accompagnare i nonni, la nonna, anche chi non scia, perché l'interesse nostro è creare nuovi appassionati sciatori. Settimane gratuite per i bambini e apertura alle 7 e mezza, ma hai detto escluso il primo dell'anno, ma se io voglio fare tutta una tirata, vengo a Campiglio che era la regina della notte con sette discoteche ai tempi d'oro, adesso la vita notturna è molto animata anche a Manoli Campiglio, faccio tutta una tirata e il primo dell'anno non posso sciare? Si può sciare ma dalle 8 e mezza, perché pensiamo che ci sia il giusto spazio per i festeggiamenti, per brindare al nuovo anno, magari alla pace che dovrà arrivare nel nuovo anno e quindi andiamo con più calma il primo dell'anno come sempre alle 8 e mezza, gli altri giorni già dalle 7 e mezza. Quindi soprattutto paletti per chi ama sentire la neve ancora dura ma fresca, diciamo la prima sciata senza che nessuno, la prima pennellata è veramente una chicca. Ma al mattino l'oro in bocca e anche per le piste a sci questo vale perché le prime ore con le temperature ideali, con le piste appena battute si scia molto meglio che magari nel pomeriggio. A tutti gli amici di Sport Outdoor Doit TV, ciao fans da Sofia Goggia. Siamo nella bellissima schiaria della Paganella, questa schiaria al centro del Trentino, 50 km di piste fra Faglia e la Paganella, Molveno e Andalo. Siamo con Mari Caperli che è la presidentessa del consorzio Andalo Vacanze, un consorzio che raggruppa i 65 alberghi di Andalo, gli impiantisti e il comune di Andalo per promuovere Andalo. Ormai è una destinazione con la Paganella veramente importante nel mondo del turismo montano, una stagione che dura tutto l'anno, lo possiamo dire. E' stato inverno grazie al lago, grazie all'offerta Outdoor e grazie nell'imperiode invernale, iniziato già ai primi di dicembre sino ad aprile inoltratto, una grande stagione invernale, un grande sforzo di questo vostro consorzio per la promozione turistica del vostro territorio. Esattamente, diciamo che diamo inizio a questa stagione invernale, adesso ai primi di dicembre si prevede un tutto esaurito con più di 40 strutture aperte e il 90% dei servizi che proponiamo come consorzio Andalo Vacanze è già attivo. Si prevede una buona stagione, le prospettive sono ottime anche come lunghezza perché finiremo verso i primi di aprile. I baby park in quota sono praticamente pronti, sia Baby Park Dosson che Bibioglu si prospetta un'ottima stagione. Una stagione ricca di eventi, ricca di iniziative, dalle albi in quota ai tramonti in alta quota, noi lo diciamo sempre nelle nostre trasmissioni, che la Paganella ha un panorama unico dalle Alpe austriache sino all'Appenina, al Lago di Garda e non solo un panorama a 360 gradi che volete valorizzare sempre di più e ha oltre, come abbiamo detto, 20.000 posti letto che non ci sono tante località nelle Alpe italiane e non solo che hanno una simile capacità ricettiva. Certo, esattamente. Diciamo che ormai a livello sia nazionale che internazionale andano è una località affermata, proprio anche a livello sciistico. Le attività che proponiamo di anno in anno sono innumerevoli, quindi quest'inverno ci aspetteranno 5 tramonti, la Roda ci sarà anche un'Alba, oltre a tante attività tipo gattista per una notte, le cene in quota, lo sci notturna e quant'altro. E poi grande novità anche dal punto di vista degli impianti, una pista olimpionica allargata, una nuova cabinovia per i bambini e soprattutto 8 scuole di sci con oltre 200 maestri di sci, vuol dire che avete una grande offerta e una grande ricettività anche sotto questo punto di vista. Esatto, le 20.000 posti letto che dicevi prima dobbiamo soddisfarli gestendo numeri importanti, quindi il nostro target prevalente comunque sia è la famiglia, quindi la famiglia fa sempre la settimana e riusciamo a riempire la giornata, non dico nelle 24 ore ma quasi, insomma, tra la mattina, pomeriggio e sera. La novità di quest'anno per il target famiglia è sicuramente la nuova telecabina Baby Express che va in funzione in questi giorni, insomma, che va a arricchire la nostra offerta turistica locale non da poco. Tanti italiani ma la Paganella è apprezzata grazie alla vicinanza dell'autostrada del Brennero, vicina al confine appunto con l'Alto Adige e con l'Austria e anche da tanti turisti stranieri. Esattamente, diciamo che ormai Polonia, Repubblica Ceca, siamo conosciuti i norvegesi che si allenano qua, la nazionale norvegesi che si allenano qua, siamo riconosciuti proprio a livello internazionale ormai. Tante settimane bianche ma anche la vicinanza alle città più importanti della Paganella Padana fanno sì che c'è anche un turismo di mordi e fuggi, tanti weekend, tanti anche trasferti domenicali. Esattamente, sì. La località piace, viene apprezzata, anche la vicinanza dallo snodo autostradale è determinante in questo e quindi non ci possiamo lamentare da questo punto di vista. In effetti, dieci minuti dalla stazione di Trento Nord, un quarto d'ora dalla stazione ferroviaria con comodi collegamenti fanno sì che la Paganella è sempre più al centro dell'attenzione del turismo montano. Esattamente, dopo vi trovate qua, vedete che panorama, che spettacolo, insomma le piste sono già pronte e diamo inizio alla stagione invernale. Schirama Dolomiti Adamello Brenta, un comprensorio sciistico che raduna otto eccellenze turistiche del Trentino occidentale. Le otto località sono, partendo da est verso ovest, Folgaria, Il Bondone, La Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Val di Sole con Folgaria e Marileva, Peio, sino ad arrivare al passo del Tonale con Ponti di Lina. Insieme le otto località fanno 400 km di piste usufruibili con unico ski pass. Ne parliamo con Simone Pegolotti, che è il direttore delle funivie di Peio. L'unione fa la forza, Simone, e sciare su 400 km di piste con unico ski pass è veramente una grande offerta vincente per il Trentino e per le otto località che fanno parte di Schirama. Lo dimostrano i fatti, lo dimostrano i numeri. L'associazione di Schirama permette veramente al turista di poter assaporare tante località, diverse una dall'altra, ma che si uniscono sotto questo ski pass. Perciò la possibilità di vedere tante località con questa unica offerta è veramente una cosa che ci contraddistingue. Quali sono, Simone, le peculiarità di Peio all'interno di Schirama? Peio è all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, una località green che guarda alla responsabilità nei confronti del nostro ambiente e pertanto ci contraddistingue il fatto di essere in questa ottica. Abbiamo 20 km di piste incastronate in questa meraviglia che potete vedere dalle immagini e la nostra cavallo di battaglia è quello di poter sciare a partire da 3.000 metri. Pertanto raggiungibili con la funivia sono proprio i 3.000 veri metri e si scende fino a Peio Fonti a 1.400 metri con 8 km di pista continuativa. E soprattutto la forza di Schirama è avere lo stagionale per tutte le otto località, anche il settimanale per chi fa la settimana bianca, può fare un giorno a Peio, un giorno a Tonano, un giorno a Folgaria, un giorno a Campiglio, quindi godersi le peculiarità del Trentino e delle vostre schiarie. Esattamente, chi fa lo stagionale vuol dire che ha tanto tempo da dedicare, tanta voglia di assaporare tutta questa parte del Trentino, beati loro mi viene da dire. Beati loro e beati voi perché in effetti Schirama è una forza vincente per i tanti italiani che hanno tempo e voglia e soprattutto la capacità di sciare e anche per i tanti turisti stranieri dal nord Europa che godono delle bellezze del vostro territorio. Tutto perché la qualità che tutte le nostre località di Schirama mettono all'interno di questa offerta è veramente alta. Innovazione, voglia di preparare le piste già da inizio stagione, noi siamo sempre pronti e questo va dato merito a ogni singola località che veramente si impegna tantissimo. Un caro saluto a tutti gli amici sportivi da Elisa Vitozzi per sportautor.tv Schirama Dolomiti Adamello Brenta, madonna di Campiglio. Sentire la neve che scricchiola. Questo per me è il vero inverno. Il vero inverno è quando non fai mai la stessa discesa. Non fai mai la stessa curva. Non fai mai lo stesso salto. L'inverno, quello vero, è qui e ti aspetta. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026 Nelle Dolomiti ogni montagna è una leggenda. Al tramonto fioriscono le rose. Nei laghi si nascondono le ninfe. Sulle vette abitano i giganti. In cielo volano le streghe. Nei boschi giocano gli ignomi. Entra nella leggenda. Dolomiti Superski Ponte di legno Tonale Funivie Folgarida e Marilleva Samice, fatti di sport Road to Winter World Master Games Lombardia 2024 Dal 12 al 21 gennaio 2024 la Lombardia e il Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti over 30. Paganella Ski Red Elk Advanced Comfort Approve Caspolà dal chiaro di luna La camminata con le caspole notturna più partecipata d'Italia Sabato 3 febbraio a Vezza d'Oglio in Alta Val Camonica in provincia di Brescia Cari amici telespettatori il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata è finita questa puntata di Sportador.tv il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, del turismo e delle vacanze puntata questa come avete visto tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali Floriano Moboni vi saluto e vi ringrazio e vi dà appuntamento alla prossima occasione ciao arrivederci in collaborazione con Funivia e Folgarida e Marilleva Paganella Ski Peio